Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Stavo nel teatro dei burattini. E perché? Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andato nel teatro dei burattini. E sei entrato senza pagare? Sì. Non ho fatto entrare così. Che sta succedendo? No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi. Poi ce l'ho mangiato a fuoco. E mi ha dato cinque zecchi di doro. Poi? E poi lo persi. E ho incontrato i due assassini nel bosco. E dimmi. Non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo? No. Io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso? No, no, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti. fermalo, fermalo, fermalo. No, ci rompe tutto. No, no, attento, non mi fate male. Mi fate male. Fermalo, per favore, rompe tutto. E' stato un po' di bugie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.